Come mai tu qua in galera? Che è successo? Allora, ero con la mia famiglia e ad un tratto è uscito un topo gigante Io baa 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 e l'ho ammazzato per, insomma, l'ho fatto per difendere la mia famiglia e i miei figli Ah, caspita, allora sei stato un eroe, ma dov'eri? A Disneyland